Ciao, la scuola ormai è finita per tutti, le elementari sono in vacanza già da un mese, le medie da qualche settimana e le superiori invece stanno proprio finendo adesso tutti gli esami. Io invece ho ancora qualche esame universitario da dare, ma tra poco anche io andrò in vacanza, non vedo l'ora. Beh, ho deciso di fare questo video innanzitutto per ringraziare ognuno di voi per questo anno passato insieme. Chi ha visto tutti i video, chi li ha utilizzati in classe, chi ci ha finito per caso e anche chi dopo 5 secondi ha cambiato subito canale perché pensava di essere finito su un video di Don Alberto Ravagnani invece si è trovato me. È purtroppo il fascino del prete che ce posso fare io. Grazie perché siamo diventati tanti ed è per me sempre un grande onore poter rientrare anche solo per qualche minuto nelle vostre classi, nelle vostre case o semplicemente nei vostri telefoni. Detto questo, adesso è il momento di una pausa. No, non è un addio, però diciamo che abbiamo tutti quanti bisogno di un po' di riposo, compreso il sottoscritto. Quindi ecco, indicativamente fino a settembre non pubblicherò altri video qui. E dove se non qui? Beh, come ormai tutti quanti saprete, ho anche un altro canale, un secondo canale, Emanuele Magli e quindi ecco, può essere che lì invece anche in estate arrivi qualche nuovo video a seconda un po' del tempo e dell'ispirazione. Quindi se non l'avete già fatto, correte tutti subito a iscrivervi al secondo canale che potete trovare qui, nel link qua sotto oppure cercando semplicemente Emanuele Magli su YouTube. Ma non è finita qui perché ultimamente sono anche abbastanza attivo sulla pagina Instagram, Religione 2.0 dove pubblico diverse cose, tra cui una frase della settimana qualche consiglio di lettura e soprattutto lo sfaso domenicale ovvero un piccolo commento domenicale che può essere il commento al Vangelo della Domenica oppure a qualche fatto di cronaca qualcosa che mi passa così per la testa. Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo sfaso domenicale e oggi giornata un po' strana, qua c'è il tempo che è abbastanza deprimente ma a tirarci su ci ha pensato San Paolo. Quindi se non l'avete già fatto andate a seguirmi anche su Instagram cercate Religione 2.0 oppure il link sempre qui sotto. Ho deciso per quest'estate di diciamo tenere più attivo il canale su Instagram perché mi rubo meno tempo, perché fare i video qui per YouTube è una cosa un po' più impegnativa e ci vuole molto più tempo allora invece fare su Instagram meno allora mi sembrava il giusto compromesso per riposarmi ma mantenere comunque un po' attivo il canale. Bene, detto questo auguro a tutti voi una buona estate riposatevi, divertitevi, prendete il sole e noi ci rivediamo qui nel prossimo video verso settembre. Ciao! Ma non è vera di studiare.